Avezzano furto in gioielleria in pieno giorno hanno agito in quattro a volto scoperto. Isole ecologiche e mobili, condivisione con le associazioni dei commercianti. Tire il terrore degli automobilisti, tra poco ascolteremo l'ex sindaco Di Pangrazio. Coppa Italia Metodo Pass, Avezzano ospiterà la tappa regionale del Context Televisivo. Un cordiale saluto dagli studi di Antena 2. Dunque hanno agito in quattro, tre uomini e una donna, a volto scoperto e con una pistola in pugno per mettere a segno una rapina nella gioielleria Ranalletta, in pieno centro, ad Avezzano, adiacente la sede della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, ex Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila. Colpa è stato portato a termine in pochi minuti, verso le 12.30. I rapinatori sono stati sicuramente favoriti dal blocco stradale dell'incrocio tra Via Trieste e Via Corradini, dove sono in corso lavori di sistemazione del manto stradale da parte del Comune. Infatti dopo il colpo hanno utilizzato il tratto di strada in senso inverso, per poi far sparire le proprie tracce. Da quanto è stato possibile sapere da alcuni testimoni, i quattro, ricordiamo a volto scoperto, sono scesi da una utilitaria. Una di loro, approfittando della presenza e l'ingresso della gioielleria di una cliente, ha avuto l'accesso facilitato. Una volta dentro ha estratto la pistola, atteso l'arrivo dei complici e sempre sotto la minaccia dell'arma, hanno richiuso due clienti nel bagno e dopo aver immobilizzato e legato le mani al titolare Corrado Ranalletta, lo hanno costretto ad aprire la cassaforte, portando via tutto il contenuto. Subito dopo sono risaliti in macchina, hanno effettuato un'inversione di marcia e si sono dileguati nel breve tratto di via Trieste. Anche se non è stato fatto ancora un inventario, si suppone che il danno sia veramente ingente. Fortunatamente nessuno dei presenti, titolari e clienti hanno riportato serie conseguenze fisiche. Gli agenti del commissariato, oltre a effettuare i rilievi di propria competenza ed aver ascoltato alcuni testimoni, dovrebbero aver acquisito le immagini della telecamera di sorveglianza della banca che punta all'obiettivo proprio in direzione dell'ingresso della gioielleria che si trova vicino allo sportello del Bancomat. Quello che i titolari negli esercizi commerciali avevano ipotizzato si è puntualmente verificato. Infatti, oltre ai disagi e mancati incassi causati dalla chiusura dell'incrocio tra via Trieste e via Corradini è stata favorita l'azione di criminali che, approfittando di circostanze favorevoli, hanno potuto mettere a segno un colpo clamoroso, utilizzando l'unica via di fuga per far perdere le proprie tracce. Isole ecologiche e mobili per liberare il centro cittadino dagli antistatici Mastelli, spesso posizionati davanti agli ingressi di decine e decine di attività commerciali, occupando spazi lungo i marciapiedi. Saranno installate per quattro giorni alla settimana, lunedì, martedì, giovedì e venerdì, in quattro punti centrali. Il parcheggio dell'Exeinal in via Marconi, via Cataldi, vicino a Piazza del Mercato, in via Aquila, zona della chiesa San Rocco, in piazza Matteotti, area stazione. Gli altri due giorni della settimana, mercoledì e sabato, le due isole ecologiche, dove si potrà conferire vetro, plastica, carta, indifferenziato organico, servendosi di un'apposita chiavetta, sono al servizio dei mercati in centro, zona e nord. Sarà dunque evitato lasciare i Mastelli all'esterno delle attività. Un restretto giro appena la società Tecneco avrà stilato il calendario negli orari a rotazione nei quattro nuovi punti. Il servizio aggiuntivo aprirà i battenti. Le isole ecologiche Genio, infatti sono due, quindi, saranno piazzate in due zone, dalle 8.30 alle 11, nelle altre dalle 11.30 alle 14.30. L'operazione messa in cantiere dall'amministrazione di Angelis è stata condivisa con le associazioni di categoria, Conf Commercio, Conf Esercenti, Conf Artigianato, CNA, Centro Giuridico del Cittadino. Si è regolarmente svolto questa mattina il Consiglio della provincia dell'Aquila, nel corso del quale il Presidente Angelo Caruso ha rappresentato la partecipazione della provincia e dell'intero Consiglio alle celebrazioni, ricordo delle vittime del sisma del 2009, 10 anni dal catastrofico evento. Il Consigliere Fabio Camilli invece ha annunciato ufficialmente di aver lasciato il gruppo del PD per aderire all'associazione Il Passo Possibile, a seguito di confronto con il Consigliere Fabio Ranalli, che resta unico rappresentante del PD in seno al Consiglio. Approvati all'unanimità i lavori di somma urgenza per la rimozione, trasporto e smaltimento alberature presso liceo Benedetto Croce di Avezzano e il conseguente riconoscimento della spesa. Approvato all'unanimità il protocollo d'intesa tra la provincia dell'Aquila e l'azienda regionale attività produttive per l'attivazione di un tavolo tecnico di lavoro finalizzato alla revisione e aggiornamento della pianificazione urbanistica dei nuclei di sviluppo industriali della provincia e le procedure di formazione ed approvazione dei piani regolatori territoriali delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale. L'azione già discussa è programmata nella Commissione Ambiente preseduta dal Consigliere Delegato Alfonsino Scamolla. Il Consigliere Gianluca Alfonsi ha sottolineato gli aspetti positivi del protocollo d'intesa con l'Arap perché favorisce l'insediamento di nuove attività produttive in particolar modo le nuove start-up giovanili. Il Consigliere Fabio Camilli ha definito il piano un ottimo strumento e unitamente ai consiglieri ha chiesto che la sede dell'ufficio di piano potesse essere allocata nella città dell'Aquila. I nuovi membri del Collegio da Revisore dei Conti sono risultati essere Domenico Marrollo, nominato presidente per incarichi, posizioni e ruoli già svolti, Giancarlo Micozzi e Patrizia Maria Milani. Per quanto riguarda le competenze, l'intero Consiglio, dopo attenta analisi e discussione, ha determinato anche i relativi compensi. Il nuovo Collegio resta in carica fino al 2022. Tiziano Genovesi di Avezzano è stato confermato alla guida della Lega Marsica a comunicarlo l'onorevole Luigi Deramo, che con un comunicato stampo ha ufficialmente confermato Genovesi alla guida del partito di Matteo Salvini. Visto l'ottimo lavoro svolto durante la campagna elettorale ed i risultati ottenuti nella Marsica dalla Movimento Lega Bruzzo Salvini Premier, ho deciso di riconfermare alla guida del partito Tiziano Genovesi, aggiunge Deramo, affidando a lui il partito in una fase delicata, all'indomani dell'importante vittoria delle regionali. Genovesi avrà pieni poteri e tutta leggibilità politica sul territorio marsicano. Ringrazio l'onorevole Luigi Deramo, ha commentato Genovesi per la fiducia riposta nei miei confronti, consapevole delle sfide del lavoro da svolgere nei prossimi mesi. Vi tirred il terrore degli automobilisti che transitano per via 20 Settembre ad Avezzano. Stiamo parlando del sistema di rilevamento posto all'incrocio tra via 20 Settembre e via De Fiori che giornalmente permette al comune di Avezzano di intascare ingenti somme per infrazioni che vengono rilevate. Il sistema è al centro di critiche e ricorsi in quanto non permetterebbe agli automobilisti di avere il tempo sufficiente per bloccare la propria macchina prima di una riga bianca che fino a qualche giorno fa era praticamente invisibile. A riguardo nei prossimi giorni cercheremo di avere delucidazioni dell'amministrazione comunale. Oggi invece vi proponiamo un'intervista che abbiamo realizzato con l'ex sindaco Giovanni Di Pangrazio. Non si fa altro che parlare del semaforo di via 20 Settembre ad Avezzano in quanto ogni giorno il comune incassa somme ingenti derivanti da almeno 150 contravenzioni al giorno. Chi meglio di un ex sindaco e di un tecnico può parlarci e darci spiegazioni? Il dottor Gianni Di Pangrazio. Sì, io penso che questa sia stata tutta prevista dall'amministrazione e tanto è vero che sul bilancio di previsione sono stati previsti 2 milioni di euro proprio relativa alle sanzioni al codice della strada. Noi votammo contro, noi, solo noi dell'opposizione. Ci fu anche il voto favorevole di alcuni che pur essendo stati candidati con noi poi hanno fatto come altri il salto della guaglia. Noi avevamo visto giusto nel votare contro e la prova lo sta dimostrando queste sanzioni che stanno arrivando continuamente nelle case dei cittadini. La cosa che ci spaventa e ci fa ancora più arrabbiare è che queste multe sono riferite al mese di dicembre e dal mese di dicembre stanno arrivando con un ritardo di tre mesi naturalmente dovute a tutta una serie di procedure ma a dicembre fu fatta una comunicazione ma non fu fatta una comunicazione giusta, sentita, alla cittadinanza. C'era un giornalino che faceva propaganda con i soldi dei cittadini mandato, pubblicato, stampato e trasmesso nelle case degli avezzanesi che naturalmente non parlava di questo semaforo killer perché io penso che oggi possiamo definire Avezzano una multopoli non città di Avezzano perché 150 multe al giorno sono tantissime e quelle che verranno, quelle che saranno notificate nei mesi di aprile, di maggio in relativa a gennaio, febbraio, marzo se oggi ci troviamo solo a dicembre e stanno riempendo le case io penso che quindi questa sia una cosa assurda, preventivata non si pensa ad andare a trovare fondi a Roma, all'Europa, alla regione ma è più facile multare i cittadini di Avezzano ma dico, i cittadini di Avezzano sono ben contenti di contribuire alla realizzazione di qualche opera ma facciamo i buoni obbligazionari comunali i cittadini versano delle somme e poi a fine investimento ritirano comunque il capitale multarli per fare delle opere, per fare propaganda per continuare a fare dei lavori che poi dopo possono essere fatti attraverso altre forme come ho detto prima ma anche attraverso possibilità che sono state date ai comuni da questo governo che ha liberalizzato praticamente una parte consistente del patto di stabilità dell'avanzo di amministrazione dei fondi che erano prima vincolati e che non potevano essere spesi non capisco perché si vuole a tutti i costi tartassare i cittadini tartassare la città colpire la città nella propria economia cioè togliendo veramente dalle tasche dei cittadini quei pochi risparmi che hanno là è facile anche perché nessuno può difendersi perché arriva all'improvviso non è un diretto di sosta e poi ecco per vederlo in un bilancio di previsione significa che comunque era stato tutto previsto ma poi la cosa assurda è che va bene fare le multe per chi passa col semaforo rosso per chi chiaramente deve mantenere la sicurezza è giusto che vengono fatti tutti gli accorgimenti possibili ma quale sicurezza c'è se ci sono delle delimitazioni delle linee di arresto doppie che non si vedono sono tutte sbiadite e che sono state poi arretrate specialmente per chi va e queste sono le multe maggiori per chi va da Avezzano verso Sampelino ci sono due strisce praticamente che non sono visibili e possono trarre in inganni e poi sono state molto arretrate lì non è necessario arretrarle fino a quel punto perché quello è un senso unico quindi non viene nessuno e quindi non passano camion o automezzi pesanti e ingombrandi quindi ritengo che una soluzione di questo tipo sia del tutto sbagliata basta poi il raggio di azione della telecamera restringerlo per colpire veramente chi passa col rosso chi fa delle violazioni concrete sostanziali ma non per chi per 10-20 cm supera la linea di arresto della mezzeria stradale questo mi sembra veramente voler colpire i cittadini ma la cosa che mi preoccupa che arriveranno altre multe e oltre ai due punti sulla patente ci saranno anche delle conseguenze serie per coloro che rischieranno veramente poi il ritiro della patente con l'accumulo di questi punti e la macchina gli serve per andare a lavorare quindi anche su questo penso che bisogna fare qualcosa c'è una parte anche di una maggioranza minestrone che chiede di discutere sul semaforo di via 20 settembre io anche su questo punto penso che sia e rivolgo un invito forte a quella parte della maggioranza ragionevole per dire rivedete fate rivedere questa scelta scellerata e a danno solamente dei cittadini di Avezzano non mi pare così come è annunciato che ci siano delle flotte di turisti che vengono a vedere la città bella perché la città bella è chiusa e non c'è niente di bello anzi c'è il benvenuto che si dà proprio facendo le multe a chiunque accede nella città di Avezzano quindi state duri mantenetela dura voi che potete in qualche modo creare insieme a noi un scossone a queste idee del sindaco e dei suoi più stretti collaboratori che secondo me non hanno interesse a migliorare la vita nella nostra città ma hanno diversi interessi per i quali chiaramente noi saremo all'opposizione saremo duri manderemo le nostre posizioni e assicuriamo a chi chiaramente e a tutti i cittadini di Avezzano per qualsiasi cosa noi siamo pronti di fare qualsiasi azione qualsiasi manifestazione che possa riportare la dignità per la città di Avezzano la vivibilità per la città di Avezzano e soprattutto la serenità nella città di Avezzano dopo l'annuncio dell'avere sui conti della sanità abruzzese l'ex assessore Silvio Polucci invita gli ex esponenti dell'opposizione a trovare il coraggio di chiedere scusa testualmente scrive dopo i volgari attacchi subiti dagli esponenti del Movimento 5 Stelle del centrodestra in particolar modo da Mauro Febbo finalmente il nuovo governo regionale scopre dal tavolo di monitoraggio costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e Finanze per il tramite del neoassessore alla sanità Nicoletta Verè che i conti della sanità abruzzese sono in equilibrio questo certifica che la comunicazione politica adottata dalla loro minoranza ora maggioranza è stata condotta scientemente con il solo scopo di screditare le persone il partito con l'arma della menzogna abbiamo il coraggio di chiedere scusa e immediata è stata la risposta dell'assessore all'attività produttive Mauro Febbo l'ex assessore Paolucci dopo la macelleria sociale del suo quinquennio certificata dal risultato elettorale continua con le sue esternazioni che non trovano alcun fondamento i dati a cui fa riferimento il Ministero sono quelli relativi al quarto trimestre 2018 e non quelli relativi ai bilanci ufficiali delle ASL al 31 dicembre 2018 che a tutt'oggi non sono ancora approvati ma che sono stati ampiamente anticipati dalle stesse ASL con un significativo dato negativo purtroppo così come i dati forniti dal Ministero relativi ai bilanci al 31 dicembre 2016 sono stati fortemente rideterminati in senso negativo purtroppo dalla Corte dei Conti che ha evidenziato una perdita di oltre 60 milioni di euro rispetto e 32 milioni di euro certificati dalle aziende anche per il 2017 siamo in attesa delle valutazioni della Corte dei Conti fermo restando che i bilanci ufficiali delle quattro ASL chiusi al 31 dicembre 2017 registrano una perdita consistente il tavolo di monitoraggio del 15 novembre 2018 il cui verbale c'è stato negato per bene 94 giorni è reso pubblico solo dopo la competizione elettorale del 10 febbraio scorso ha contestato il ripiano delle perdite con i fondi di bilancio Paolucci conclude Febo anziché per perdere tempo prezioso nella ricerca spasmodica di giustificare l'ingiustificabile si dedicasse con più attenzione a capire la macelleria sociale causata nei suoi anni di governo raccontare i fatti di cronaca senza cadere nel grottesco il premio giornalistico dell'Agnos di Avezzano che banta una lunghissima tradizione tra i premiati Bianca Berlinguer Bruno Vespa Maria Concetta Mattei tanto per citarne alcuni è stato assegnato per l'anno sociale 2018-2019 ad Adriana Pannittari volto storico del TG1 attualmente nel team dei conduttori della fascia Alba nel corso della sua carriera Adriana Pannittari è stata al timone di programmi seguitissimi della RAI come Uno Mattino Estate Prima Pagina e Italia Sera durante la premiazione è stato presentato l'ultimo libro della giornalista Panittari dal titolo Cronaca di un delitto annunciato il romanzo tratta il tema di attualità della violenza di genere e parla di una donna uccisa dal suo uomo in un contesto apparentemente normale dove ma si sarebbe potuto immaginare una tale tragedia il debutto come scrittrice è avvenuto nel 2006 con Madri Assassine Diario da Castiglione delle Stiviere seguono poi vite sospese eutanasia un diritto la vita senza limiti la morte di Eluana in uno stato di diritto e la pazia dimenticata viaggio poi negli ospedali psichiatrici giudiziari la cerimonia di consegna si è tenuta presso il ristorante Napoleone di Avezzano la presenza del presidente dell'Ions Club di Avezzano l'avvocato annunziata Morgani dei soci delle autorità civili e lionistiche grazie al patrocinio del comune di Avezzano il teatro De Marsi sabato 13 aprile alle ore 10 e 30 ospiterà la tappa regionale del context televisivo nazionale Coppa Italia del metodo PAS ossia performer arti scenico sportive l'evento inizierà con una conferenza stampa di presentazione del progetto da parte del team abruzzese Michela Olivieri in qualità di responsabile regionale e Antonella del Giudice responsabile regionale settore danza e Crispy Secha responsabile provinciale di Chieti nel pannello giudicante di questa tappa noto ballerino e produttore Gary Zon Rochelle Gianni Testa produttore musicale e Stefano Bonte Piatore produttore teatrale l'evento seguirà con esibizioni live di danza canto e recitazione ospitando questa manifestazione a Avezzano si progerà di offrire una grande opportunità culturale e sportiva e di intrattenimento il commento dell'assessore Pierluigi Di Stefano i performer in gara arriveranno da tutto l'Abruzzo avranno l'opportunità di calcare un palco importante come quello del Teatro De Marsi il pubblico che interverrà potrà godere di uno spettacolo di ampio spettro artistico il sabato 13 aprile a partire dalle ore 10 e 30 la presenza di numerose autorità fra i quali il presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio il presidente della provincia dell'Aquila Angelo Caruso il ponte che attraversa il fiume Giovenco sulla strada provinciale numero 17 del parco nazionale d'Abruzzo sarà nuovamente transitabile un lungo iter accompagnato l'inizio dei lavori insistendo il tratto stradale su un territorio che investe la competenza di numerosi enti grazie all'impegno del presidente Angelo Caruso del delegato della viabilità Gelo Calfonsi del consigliere Alfonsino Scamolla e dell'intero settore della viabilità si è riusciti in tempi brevissimi a ottenere tutte le autorizzazioni necessarie a iniziare i lavori la dita esecutrice ha lavorato durante tutto il periodo invernale per mettere in sicurezza la struttura e consegnare l'opera entro la prossima Pasqua intanto sulla stessa strada provinciale del parco nazionale d'Abruzzo nella prima decada del mese di maggio partiranno i lavori per il risanamento del movimento franoso al chilometro 8 e 400 nel territorio comunale di Ortone dei Marsi causato dai danni del gennaio 2015 per un importo complessivo di circa 200 mila euro la dita incaricata dell'esecuzione dei lavori è la di Prospero che ha sottoscritto il contratto proprio oggi questa provincia dichiara il delegato della viabilità Gianluca Alfonsi preferisce dimostrare con i fatti gli impegni che assume con le popolazioni e sindaci del territorio i fondi investiti su queste e altre strade della provincia sono parte integrande di un ambizioso programma che vuole riportare la viabilità provinciale ai massimi livelli di sicurezza e percorribilità soddisfatto il consigliere Alfonsino Scamolla per le sinergie attuate e condivise a ogni livello sia su politico o istituzionale come l'interessamento dell'ex consigliere regionale Maurizio Di Nicola che si adoperò per un finanziamento di 50 mila euro per il ponte sul Giovenco e organizzativo provinciale nei vari settori di riferimento causa maltempo la prevista festa dei fuochi in programma per sabato 13 aprile e domenica 14 sul mondo è stata rinviata ai prossimi 4 e 5 maggio lo ha deciso direttivo dell'associazione giostra cavaleresca seguito delle previsioni meteorologiche che non promettono nulla di buono per il fine settimana non potevamo rischiare che la pioggia rovinasse una festa che è il primo appuntamento delle manifestazioni della giostra e con l'inizio della stagione primaverile ha dichiarato il presidente Maurizio Antonini per questo abbiamo deciso di rinviare di due settimane l'evento per far sì che tutti possano partecipare ad una festa gioiosa e al suggestivo spettacolo dei fuochi in piazza Garibaldi e la proloquo di Roccavivi con la collaborazione del comune di San Vincenzo Valle Roveto e della Segen Spa organizza una giornata di volontariato ecologico raccolta rifiuti polizia strade l'appuntamento per sabato 13 aprile alle ore 14 tutti i partecipanti saranno divisi per squadre ad ogni squadra verranno assegnate delle zone con l'obiettivo di ripolire il territorio volontari opereranno sia all'interno del paese che in quello micro discariche che sorgono purtroppo in maniera sempre più frequente in zone lontane dal centro abitato dove vengono buttate rifiuti di ogni genere la proloquo ringrazia la Segen per la sensibilità dimostrata aderendo subito all'iniziativa mettendo a disposizione guanti buste ed un mezzo con un operatore per la raccolta al termine della giornata aperitivo a tutti i partecipanti offerto dalla proloquo di Roccavivi questa era l'ultima notizia quindi il giornale termina qui prima dei saluti come sempre vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antena2tv.it o sulla nostra pagina facebook dove sarà possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci grazie Grazie a tutti.